Durante le prove di orchestra i ragazzi sono sempre affiancati dai loro insegnanti in modo tale che ci sia continuamente scambio di informazioni anche quando fanno musica di insieme, perché uno cresce sia di fianco qualcuno che gli dice come si fa, quindi si suona insieme, si cresce insieme e quando c'è il concerto per noi è un momento di festa. Grazie. 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 Grazie.